Ciao gentaglia, bentornati su Breaking Italy. Spero abbiate passato un buon giovedì. Punto. Perché lo sanno tutti che il punto è diventato da roba che metti alla fine della frase per far sapere a tutti che la frase finita ha emoji. È diventato un metodo per far sapere che sei arrabbiato, sei infastidito, il punto ha assunto un nuovo significato. Cioè nonostante un recente studio di un gruppo di ricercatori di un'università di New York ha confermato una roba che tutti sapevano benissimo. Se il vostro compagno slash compagna mette un punto alla fine della frase qualcosa non va. C'è un litigio che sta per avvenire. Ormai è troppo tardi e non potete farci niente. Il punto però è questa roba è da criticare perché io sono sempre stato... No, non è vero che sono sempre stato. Quando ero giovane ero molto critico nei confronti ad esempio di chi utilizzava le emoji. Che prima non si chiamavano emoji. Peraltro, fun fact, la ragione per la quale io scrivo le faccine, al contrario, deriva proprio da quello. Che non volevo che i sistemi dei tempi riconoscessero la faccina come faccina e quindi facessero diventare il tutto un enorme smile giallo. Alla fine con l'avvento degli emoji su whatsapp o robe di questo tipo mi sono convertito più che altro perché sono diventato abbastanza pigro perché mi sto rincoglionendo probabilmente e quindi mi piacciono le faccine che fanno yeeey, taco, sushi, droga e soprattutto perché effettivamente la comunicazione non verbale scritta su whatsapp, telegram, skype o robe di questo tipo è sempre più comune e più diventa comune più è necessario visto che sostituisce quella al telefono o di persona fare in modo che gli scambi siano veloci, concisi ma che allo stesso tempo dicano molte cose, robe che normalmente puoi fare con la faccia ma se non hai qualcuno davanti o ti fai un selfie, è una roba che io faccio continuamente, rispondo alle persone su whatsapp con dei selfie, se non vuoi fare quello usi le emoji. Faccina del tizio che sorride e piange, faccina del tizio che sorride e piange, faccina del tizio che sorride e piange, sushi. So che non sono tutti d'accordo però fortunatamente molti di voi ancora non sono completamente rincoglioniti dall'età come me quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e poi un sacco di altre cose che come al solito trovate nei commenti quindi il tutto è sponsorizzato da EIA, non lo dico sempre però è così, grazie EIA ragazzi di EIA sono nell'altra stanza in realtà, sto ringraziando qualcuno che può sentirmi in diretta in questo momento quindi altre cose interessanti accadute negli ultime 24 ore, il video di youtube, youtube rewind 2015 se non siete appena approdati sulla piattaforma saprete che ogni anno il famoso sito che io odio, poi amo, poi odio e poi apprezzo fa questa sorta di video gigantesco nel quale ci sono un sacco di star di youtube e bla 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 e le persone ovviamente lo criticano perché è così che deve andare, è più o meno come la canzone di Natale di Radio DJ che ogni anno viene fatta e ogni anno quella che viene fatta quell'anno è più brutta di quella precedente ma sicuramente più bella di quella che arriverà l'anno successivo il video comunque è molto bello e ben fatto ed è fantastico scoprire che non conosco quasi nessuno lo dico ogni anno ma ogni anno è sempre più vero sulla piattaforma arrivano un sacco di persone nuove, diventano gigantesche, vecchi youtuber, diventano meno popolari che non significa che tutti cadano in disgrazia semplicemente non sono più nell'olimpo dei youtuber se esiste qualcosa di questo tipo ed è normale e parlando di altre cose avvicinandoci di più all'Italia, paese dove nessuno si lamenta mai l'Unione Europea ha imposto delle nuove regole che quindi valgono anche l'Italia ovviamente per quanto riguarda le commissioni relative ai pagamenti con carta di credito e carta di debito quelle cose che vengono sempre più utilizzate e che se saremmo fortunati un giorno diventeranno l'unico modo per effettuare dei pagamenti e quindi l'unico modo per controllare che le persone effettivamente non si intaschino dei soldi in nero che è un grosso problema e quindi oddio le tasse ingiusto ingiusto però comunque le tasse si pagano quindi dal mio canto saluto l'avvento della nostra divinità pagamento elettronico che però è da molti criticato perché ovviamente quando c'è un pagamento elettronico c'è una piccola percentuale che deve passare attraverso il sistema che permette quel pagamento elettronico la cosiddetta commissione che sino a ieri oscillava tra lo 0,5 e il 2,5% dell'intera somma che tu dai al negozio quindi grazie di questo frigorifero però il 2,5% non andrà a te caro negoziante andrà al sistema, alla banca, all'agenzia che permette lo scambio di denaro elettronico ci sta ovviamente dovranno guadagnare anche loro ma secondo l'unione europea non devono guadagnare troppo quindi si è messo un tetto di 0,3 e 0,2 a seconda che il pagamento avvenga con carta di credito e carta di debito è qualcosa di positivo e quindi benvenuti tutti al quiz della lamentela le lamentele sono le seguenti numero 1 è un favore alle banche nope non è un favore alle banche anzi stanno dicendo alle banche non potete guadagnare così tanto 2 è un favore alle banche perché se gli tolgono dei soldi andranno a prenderli da qualche altra parte ni potrebbe anche succedere dovrebbero mettersi tutte d'accordo e in teoria non lo possono fare perché ci sono delle leggi che lo vietano e anche se dovesse essere così il mercato deciderà qual è il giusto prezzo quindi se improvvisamente banca A decide di aumentare del 2,5% per guadagnare rispetto a quello che ha perso con questa legge magari banca B dirà sapete cosa noi non aumentiamo perché non venite da noi facciamo pagare meno questa roba favorirà i commercianti si applica il discorso di prima se un negoziante decide che quella mela che ti vendeva al 2,5% in più per rifarsi dei costi della carta e tutto il resto e che adesso quindi si ritrova una mela che vale un po' di più per lui qualcuno prima o poi deciderà che si può abbassare quel prezzo di 2,5% e quindi il mercato troverà il suo equilibrio mi rendo conto che ogni volta che succede qualcosa bisogna lamentarsi perché ogni volta che si fa qualcosa qualcuno ne beneficerà e qualcun altro invece no il punto è che l'alternativa è non fare mai niente non c'è una sola cosa che chiunque governo, personale, leader, paese, esercito, categoria, sindacato, non lo so folle con i pantaloni abbassati possa fare senza che nessuno abbia niente da ridire è impossibile è molto più facile che le persone si uniscano sotto il vessillo del è brutto qualcosa odiamo qualcosa e alle volte questo è giusto prendete Martin Schreli ve lo ricordate l'uomo più odiato d'America e del mondo e dell'universo dato che questo giovane con la sua compagnia farmaceutica era finito sotto gli occhi di tutti quanti per aver comprato un farmaco vecchissimo già in circolazione e ne ha aumentato il prezzo per guadagnare moltissimi soldi senza dover fare nulla ma altre invece lo giustificano dicendo che abbia fatto questa mossa in modo da guadagnare moltissimo dalla vendita di questo farmaco e utilizzare quei soldi per investirli e migliorare il farmaco stesso e quelle persone si sbagliano di brutto adesso il nostro simpatico amico è di nuovo sui giornali avevo parlato anzi no forse ne ho parlato ma poi l'ho tagliato succede continuamente con un sacco di storie di Breaking Italy che i Wu-Tang Clan hanno fatto un nuovo disco e ne hanno venduto moltissime copie una copia in realtà venduta a 2 milioni di dollari e questa copia non si può ascoltare in nessun modo le canzoni contenute in questo disco non sono reperibili in nessun modo l'unico modo per ascoltare queste nuove canzoni sarebbe ascoltarle direttamente dal tizio che ha comprato il disco per 2 milioni che indovinate chi è? paparabapapa a questo punto direi che l'imprenditore ha smesso completamente di cercare di apparire perlomeno umano cosa che faceva nelle prime interviste dicendo no ma a me interessano le persone e abbia iniziato a percorrere la strada che lo porterà a diventare il super cattivo finale di quelli dei film che proprio non hanno senso che fanno le cose cattive semplicemente per fare le cose cattive per infastidire gli altri e quindi ha aggiunto proprio per farsi amare dalle persone che il cd che in tanti vorrebbero ascoltare perché sono dei fan di Wutan clan e non possono ascoltare perché l'ha comprato lui non l'ha mandato in play nemmeno una volta aspetta un momento nel quale si sentirà giù e nel quale ha bisogno di buona musica per tirarsi su in ultimo gentaglia un minuto per dire una cosa pallosissima però secondo me importantissima io sta roba la voglio dire ma la devo proprio togliere di dosso perché si sta parlando moltissimo di quattro banche che stanno fallendo sono banche italiane il loro giro d'affari vale circa 1% dell'intero mercato bancario piccole piccole ste banche stanno fallendo quindi per evitare che le persone che hanno messo dei soldi nei conti correnti quindi ah il banco Matt quanto c'ho nel conto 10.000 euro noops non c'è più niente perdano i propri soldi nonostante il fatto che le banche siano in fallimento si è attivato un sistema di salvaguardia europeo proprio per tutelare queste persone che non c'entrano niente con il fallimento della banca ma nei giornali e in tv e soprattutto in politica si sta parlando moltissimo di altra categoria di persone che hanno perso dei soldi a causa di queste banche è quella causa il problema infatti è passata un po' l'idea che le persone abbiano perso dei soldi di nuovo che erano nei loro conti correnti ma non è così le persone che hanno perso dei soldi dietro a questa storia sono quelle che hanno investito in obbligazioni che per farla veramente veramente semplice sono delle cose che tu compri e quelle cose piano piano in teoria se tutto va bene ti portano degli altri soldi sono degli investimenti e in termini di investimenti normalmente più rischi più guadagni ma quando rischi rischi nel senso che quei soldi potresti anche non rivederli più è un investimento normalmente chi vuole rischiare poco e guadagnare meno ovviamente investe magari in titoli di stato che difficilmente vanno male perché lo stato dovrebbe fallire chi invece vuole guadagnare molto di più investe in altre cose e adesso a livello politico si sta parlando di un'altra sorta di rete che si vuole creare per queste altre persone che hanno perso tutto un uomo si è tolto la vita civita vecchia perché ha perso 100mila euro questi soldi dovrebbero arrivare come al solito dal pubblico ora io non so se sia giusto salvare queste persone perché poverine oppure non salvarle quella è una roba assolutamente politica quello che un po' mi scoccia è che queste persone che mi dispiace abbiano perso tutto vengano completamente esentate da ogni tipo di responsabilità perché in italia a me scazza che nessuno è mai responsabile di niente quando una persona decide di investire dei soldi lo fa per guadagnare altri soldi non c'è niente di male però sta investendo in qualcosa che sa che può andare male nel caso delle subordinate possono andare molto male e quando qualcuno fa questo tipo di cosa io perlomeno ipotizzo che sappia quello che sta facendo le banche in teoria devono vigilare su questo in pratica hanno però anche tutto l'interesse a venderti un certo tipo di obbligazioni è come chiedere al gelataio di scriverti la dieta il punto è che se qualcuno va dal gelataio tutti i giorni a mangiarsi sei chili di gelato al cioccolato nessuno dice che è colpa del gelataio perché le persone adulte fanno delle scelte e poi vengono considerate responsabili per le loro scelte poi per il resto non so se effettivamente bisognerebbe fare di nuovo questo fondo un altro fondo che crea una nuova disparità perché se aiuti loro devi aiutare anche gli altri però non lo so io ho il cuore tenero quindi dopo un po' magari dico vabbè aiutiamo anche queste persone quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate però io credo che questo discorso della responsabilità sia centrale in Italia per ogni cosa perché nessuno è mai responsabile di niente ma questo gentagli è tutto per oggi grazie per aver guardato grazie ai nostri quattro alfieri per oggi sono Antonio, Alessandro, Andrea e Francesco e che ci ricordano che le persone della gentaglia hanno delle facce e non sono solo delle scritte su internet peraltro grazie anche a tutti quelli di voi che mandano le foto per diventare alfieri per diventare regina è una roba che ormai facciamo da tipo quattro anni tutti i giorni non finirò mai di ringraziarvi per questa cosa mi ricorda che quello che faccio ha un impatto su delle persone che esistono e che hanno delle facce quindi grazie a tutti ci vediamo domani con l'ultima della settimana